Sono partite da lunedì 20 settembre presso tutti i centri vaccinali del distretto sanitario 70 le somministrazioni per la terza dose di vaccino anti-covid-19. È possibile recarsi anche per la terza dose presso i centri vaccinali del distretto 70 senza prenotazione ma muniti di tessera sanitaria. Siamo pronti per la terza dose in tutto il distretto 70. In particolare è bene specificare la differenza tra terza dose in senso stretto e dose booster ovvero la terza dose in senso stretto è a completamento del ciclo vaccinale primario cioè il ciclo vaccinale per determinati soggetti che ora elencherò devono fare tre dose e non due e la terza dose va fatta non meno di 28 giorni dalla seconda. Chi sono questi soggetti? I soggetti con gravissime patologie che debilitano il sistema immunitario ovvero idealizzati, i malati oncologici in trattamento con terapia immunodepressiva che ha avuto un trapianto d'organo, che ha attesa di trapianto d'organo e insomma tutte le persone che per qualunque ragione hanno gravi compromissioni al sistema immunitario. Per queste persone due dosi non sono sufficienti per un'immunizzazione completa per cui le evidenze scientifiche hanno portato a dire che serve una terza somministrazione a completamento, come ho già detto, del ciclo vaccinale primario. Altra cosa è la dose booster, ovvero il richiamo che è un ciclo vaccinale secondario è una dose aggiuntiva alla prima che serve per ripristinare un'adeguata risposta anticorpale contro il SARS-CoV-2. Questa dose booster va fatta ad almeno sei mesi dalla seconda somministrazione e attendiamo per questa seconda dose booster ancora l'indicazione del Governo e della Regione su come partire. Presumibilmente si partirà entro fine anno con gli over 80, gli ospiti delle residenze per anziani, cioè l'RSA, e i pazienti comunque con più di 65 anni o con un elevato grado di fragilità che non rientrino nella categoria che ha bisogno della terza dose in senso stretto. E poi man mano proseguiremo, presumibilmente dovremmo farla tutti quanti come richiamo annuale per quest'anno. Un'ultima domanda per quanto riguarda invece chi ha fatto nei mesi scorsi il vaccino monodose Johnson, quindi come dovrà comportarsi per quanto riguarda la terza dose? Allora, chi ha fatto il vaccino Johnson dovrà comportarsi esattamente come chi ha fatto qualunque altro tipo di vaccino, Pfizer, Moderna o AstraZeneca, ovvero la terza dose o la dose booster va fatta necessariamente con un vaccino a mRNA, quindi va fatta con Pfizer o Moderna. Chi ha fatto Johnson come prima dose quindi deve fare la dose addizionale a 28 giorni dalla somministrazione se rientra in quelle categorie di fragilissimi, anche se è difficile che ciò accade in quanto quelle categorie hanno fatto Pfizer o Moderna, oppure dopo sei mesi farà Pfizer o Moderna. Sempre un vaccino mRNA, qualunque sia stato il vaccino del primo ciclo di vaccinazione.